Allora, Filippo Di Fede, capitano degli Entelechia, che è successo? Niente, disastro, abbiamo perso 11 a 0, vedete i tifosi di merda? Comunque abbiamo perso 11 a 0, è tutto triste, 11, 10, non lo so. Vabbè, ci mancavano tre persone, più il nuovo acquisto che Ivan Di Franco, 86. E' 86, poi ci mancava Polizio Pagano che si è rotto il dito, manfa di cipolla all'università. E poi chi devo ricordare? Ah beh sì, Maura ha uno strappo al polpaccio, però fa parte del gioco e noi lottiamo. E' un caso questa sconfitta, dai. Lo spero, anche perché nella scorsa partita vi ho fatto vedere tanto di belle, oggi tutto distrutto. Per la settimana prossima vi rifarete, no? Spero di sì, quanto è il baiole per tu se non giochiamo, se non sbaglio. Vuoi lanciare una sfida? Doppietta di curato. Ok, grazie, ciao.